Sono stati completati i lavori per quanto riguarda le palme colpite dal punterolo rosso? Un ulteriore risultato portato a casa dopo che mi insedio nemmeno due mesi fa nel verde pubblico. Abbiamo già rimosso 50 palme nel territorio egrigentino, 50 palme che sono state colpite dal punterolo rosso e che quindi sicuramente portavano un documento alla nostra città oltre che all'incolumità pubblica. Il risultato è importante perché in breve termine abbiamo attivato gli uffici, si sono attivati per predisporre il bando dopodiché effettuati tutti i servizi monotentivi abbiamo noi portato a casa un importante risultato. Uno dei tanti, infatti il senso della conferenza stampa di oggi è proprio per rimarcare il buon lavoro fatto in questi due mesi per spiegare alla gente che evidentemente stiamo lavorando e lo stiamo facendo in buona volontà. L'ufficio infatti non sta fermo, ci sono in programma altri diversi interventi? Allora già nel mese di dicembre abbiamo acquistato un'attrezzatura ludica che verrà collocata in Piazza Cavour e nel fine gennaio verrà installata in Piazza Cavour e fa parte di un programma del rinnovamento delle attrezzature ludiche. Ho chiesto nei giorni scorsi ulteriori 15 mila euro per ulteriore acquisto. immediatamente il sindaco ha fatto mia questa richiesta e l'ha girata immediatamente dal dottore Mantione. Evidentemente stiamo lavorando bene, infatti per l'onestà che già nel 17 febbraio ci sarà l'espletamento di una gara di 70 mila euro per la manutenzione ordinaria e straordinaria del verde pubblico, manutenzione che verrà attenzionata le vie tra cui la via Metello, via Petrarca, via Ale della Vittoria ma anche in particolar modo le scuole proprio per garantire la sicurezza di tutti gli utenti fruitori. Mentre questa mattina ho richiesto al dottore Mantione ulteriori 30 mila euro per l'acquisto di un'onestà elevatore che possa sgravare il comune per quanto riguarda le manutenzioni che vengono fatte immediatamente e quindi poterle fare con sicurezza per quanto riguarda gli operatori ma con celerità per quanto riguarda invece anche la rimozione del pericolo.